Finalmente, dopo Alia agli occhi azzurri, un altro bel film in concorso che ha visto ben poche pellicole superare la sufficienza. Quello che ieri è molto piaciuto alla platea di giornalisti è l'opera seconda di Roman Coppola, qui nella triplice veste di autore, regista e produttore di I Glimpse Inside Mind o Charles Swan III, una commedia drammatica tra l'ironico e l'amaro che racconta il viaggio introspettivo all'interno di se stesso di un famoso designer sciupa femmine dopo essere stato abbandonato dalla sua ultima compagna. sottovalutata nei periodi della convivenza, ma diventata indispensabile dopo l'abbandono. Nei panni del Casanova, Charlie Sheen, uomo di successo, ricco di charme, denaro ed un incredibile fascino a cui le donne non sanno resistere, rendendogli l'esistenza più particolarmente gradevole. Tutto andrebbe per il meglio se la bella Ivana, Kathleen Wernick, stanca di tanti shocking anni, non le piantasse, spezzandogli il cuore.